Un super l'Aquila vince la contesa dell'antistadio Valle Anzucca di Francavilla Il Villa cade 1-5 venendo al match Lorè conferma il 4-3-3 con Dercole e Di Ruocco Ai lati di Scipa, Villa con il 3-4-3 di Incecco, Rossi Tacchi davanti La prima occasione al quarto d'ora con il traversone di Dercole allontanato in corner dalla retroguardia villese Dagli sviluppi colpo di testa, botta sicura di Brunetti, libera un difensore del Villa sulla linea di porta con l'aiuto della traversa Al 26esimo stop di tacco di Gran Classe di Scipa, tiro al volo, palla che sorvola la traversa Poco più tardi stesso tentativo, stesso esito, questa volta il mancino era di Rossi Subito dopo transizione offensiva dell'Aquila da destra verso sinistra di Ruocco Liberato con il destro respinto dai piedi di Gian Giacomo E il preludio al gol ospite che arriva al 32esimo cross dalla destra di Massetti Arriva Peic all'appuntamento con il gol, destro al volo ed è 0-1 4 giri di lancetta e più tardi 1-2 micidiale dell'Aquila Passaggio panoramico di Scogna-Miglio per Scipa Stop orientato e destro sotto il 7 da vedere e rivedere Gol con grande stile per l'attaccante albanese Prima dello scadere Villa in 10 per la doppia ammunizione combinata di Pentima Con le immagini di Simone Luciani a ripresa si apre subito con il trista Aquilano Di Ruocco fa tutto bene, si libera dai 20 metri con il destro, trova l'angolino giusto per lo 0-3 Subito dopo Dercole prova la gioia personale, il palo a dir di no All'ottavo ancora in gol a scuola del capoluogo, ancora di Ruocco Abile nello sfruttare con la testa il gran lavoro sull'auto di destra di Massetti Subito dopo Angolo Villa, battuto corto di Giovanni Trova il destro di Rossi, gol della bandiera ed è 1-4 Tante le scorribande delle due formazioni, nessuna occasione particolare da notare Arriviamo alla mezz'ora con Saurino che si incunia in aria Perde e ritrova il pallone e poi con il destro Fredda Gian Giacomo per il definitivo 1-5 Nel finale Shiba prende il palo da punizione, Carbonelli testa i riflessi di Gian Giacomo Ma termina dunque così l'Aquila che continua la rincorsa verso il secondo posto Villa 2015, l'Aquila 1-5 Sì, come hai detto tu, da parecchie partite abbiamo cercato di mantenere Un atteggiamento adeguato di continuare ad onorare prima noi Poi la società e soprattutto lo staff che comunque è rimasto insieme a noi A soffrire e a portare avanti queste partite che non era sicuramente facile Non era soprattutto da tutti continuarci a mettere la faccia Però abbiamo provato anche oggi a fare il massimo contro una squadra che Per quello che ha speso e per i nomi che ha Non ha niente a che vedere con questa categoria Anche se ogni partita è comunque da giocare Però sono una squadra che non ha niente a che fare con l'eccellenza Ma assolutamente, purtroppo sono tanti i fattori che influenzano il risultato finale di un campionato E noi con tanto sacrificio e tanto impegno Grazie soprattutto al mister e al suo staff abbiamo cercato di dare il massimo ogni partita Certo, quando perdi dieci giocatori durante il campionato E comunque ti ritrovi a giocare con ragazzi della Juniors E' difficile, però ci abbiamo provato fino alla fine Poi purtroppo non ce l'abbiamo fatta Però penso che nessuno ci possa dire nulla Ma io già l'ho detto ieri anche in conferenza Oggi è una partita difficilissima Perché poi se vedi fino alla mezz'ora non siamo riusciti a fare gol Se passi poi dopo nel secondo tempo sullo 0-0 Ti nervosisci e poi non è facile proseguire la partita e vincerla Devo dire che i ragazzi sono scesi in campo con il giusto atteggiamento Il giusto piglio, la giusta determinazione Perché in queste partite non è mai facile trovare la concentrazione E come poi si è visto nel calo di concentrazione Nel gol che abbiamo preso Quindi non è facile Io sono molto soddisfatto Dei ragazzi veramente hanno dimostrato oggi una grande maturità E va bene così, quindi proseguiamo A prescindere da quella che sarà la posizione finale Sarà comunque play-off Una lotta con Torrese e Giuliano Ma fino alla fine come ci arriva l'Aquila? No, noi dobbiamo arrivare fino alla fine E fare il massimo possibile Quindi ci aspetta poi la partita di domenica con Spoltore Nella quale daremo il massimo Perché proviamo a fare tutto il possibile Per ragguantare quello che è il secondo posto Dopodiché il campo deciderà chi sarà secondo, chi terzo, chi quarto Noi accetteremo tutto il risultato Ma sicuramente ci proveremo fino alla fine Questo per la società, per noi stessi, per la società e per i tifosi